Un centauro siracusano, Iginio Rubioli, 24 anni, ha perso la vita a questo morigio nel violento impatto della sua moto contro un'automobile che procedeva in senso inverso. L'incidente si è verificato in Contrada Targia, lungo la strada statale 114, una strada molto pericolosa dove nel recente passato ci sono verificati altri incidenti all'esito fatale. Secondo una prima ricostruzione fatta agli agenti della Polizia Municipale, a corso sul posto, il centauro stava viaggiando in sello alla sua moto con direzione di marcia verso Priolo, forse in fase di soppasso, ha urtato con una Ford e poi frontalmente contro una Volkswagen che procedeva in senso opposto. L'impatto è stato terribile per il 24enne che è volato per alcuni metri finendo sull'asfalto privo di vita. Inutili soccorsi anche nel 118, il giovane ha perso la vita sul colpo, la strada è stata intasata, il traffico è stato bloccato fino a sera, sul posto è giunto anche il magistrato di turno, il PM Marco Di Mauro che ha disposto all'autopsia sul cadavere del giovane. Grazie.